Il risultato è ancora di 1-0 per la Roma, però sta a sinistra di Vangioni, contrasto in area tra Manolas e Paletta. Manolas disinteressa del pallone, il suo unico obiettivo è quello di contrastare Paletta, ma lo fa in modo scomposto, in modo negligente, braccio sinistro largo e spinge Paletta, lo spinge in modo improprio, in modo scorretto, a mio avviso manca un calcio di rigore a favore del Milano. Parliamo di un simbolo o parliamo del collettivo? Sono rimasto sorpreso, devo dire negativamente, non c'è stata partita fino adesso, spero che nell'intervallo riescano a ritrovare una vena agonistica superiore rispetto a questo in primo tempo. La Roma ha dominato, il migliore stato del Milano è stato Don Arrumbolo. Ti aspettavi sicuramente di più da questo periodo.